Sono luoghi che hanno dato al film sia un aspetto più gioioso, più leggero, spensierato, ma al momento opportuno anche un aspetto più profondo. La scenografia è importantissima in un film, un film non è fatto solo da attori, da dialoghi, da musica, ma soprattutto da scenografie che immettono lo spettatore in quella che l'atmosfera richiesta.